La infastidiscono con un ombrello, prima punzecchiandola sul volto e poi cercando di toglierle il cappello, il tutto ripreso con un cellulare. La Croce Bianca di Arezzo, travolta da una bufera mediatica, la vicenda vede come protagonisti due volontari dell'associazione Aretine, suo malgrado una donna probabilmente disabile. Questo ovviamente non può rappresentare minimamente ciò che la Croce Bianca dimostra, ciò che la Croce Bianca fa e ciò che la Croce Bianca è abituata a portare a favore dell'utenza. Nel video girato da uno dei due operatori si vede un volontario stuzzicare la paziente all'interno di un mezzo per il trasporto disabili. Il filmato è stato poi condiviso da una terza persona su Instagram con tanto di emoticon sorridenti per essere rimosso poco dopo. Adesso è diventato virale dopo essere stato pubblicato dal Fatto Quotidiano. Il gesto è giunto all'attenzione del Consiglio Direttivo soltanto qualche giorno dopo l'avvenimento. Immediatamente è stato dato mandato alla Giunta e al Presidente, che sono gli organi più elevati dell'organizzazione della Croce Bianca, di provvedere, quindi di fare gli accertamenti e provvedere poi alle sanzioni. In un primo momento, in via cautelare, i due soggetti coinvolti sono stati adibiti a mansioni diverse, a ulteriore tutela della nostra utenza. Successivamente, a certati fatti, sono stati erogati i provvedimenti previsti dal nostro Statuto per questo genere di condotte. E quando oggi comunque i due operatori restano all'interno della Croce Bianca? Sono due operatori che fanno ancora parte della struttura, pur in pendenza appunto dei provvedimenti che li hanno colpiti. Le valutazioni che sono state fatte sono valutazioni allo stato degli atti, secondo quelli che erano i poteri di verifica e indagine del Consiglio. Laddove intervengano autorità con poteri di indagine molto maggiori e si dovessero accertare delle realtà un pochino diverse o più gravi di quelle che sono state riscontrate, ben venga l'opportunità di rivedere i provvedimenti. L'autore del gesto ripreso dal video presta servizio per la Croce Bianca da circa quattro anni. Non c'erano mai stati comportamenti analoghi o perlomeno non c'erano mai state segnalazioni di comportamenti analoghi tal che insomma c'era la massima fiducia sugli operatori. Ad oggi nessuna denuncia è stata presentata dalla donna ripresa nel filmato. Ovviamente se queste sono già state esporte in passato o a seguito di questa vicenda ancora comunque non ce n'è stata data notizia, pertanto rimaniamo eventualmente in attesa e a disposizione delle autorità.